Sono contento, ma ti dico la verità, i miei sei gol sono dati anche dalla squadra e dal gruppo perché ho trovato un gruppo importante, un gruppo che comunque sia si aiuta ogni partita. Come ha detto il mister, avevamo già raccolto poco rispetto a quello che avevamo fatto. Vedi a mattino, comunque sia c'era un rigore su di me, un gol annullato domenica. Abbiamo trovato delle cose un po' sfavorevoli, però alla fine oggi abbiamo preso questa vittoria, ce la godiamo e sono contento anche a livello personale di aver fatto sei gol in sei partite. Il mister ti ha citato proprio come esempio per il gruppo, ti senti tale? Sì, sì, mi ha levato anche un anno, sono contento, ho messo 32, ho messo 33, però io siccome essendo il più grande della squadra cerco comunque di collegare i giovani con i grandi per essere comunque un gruppo unito perché abbiamo tanti ragazzi giovani ma sono forti per questa categoria, ve lo posso assicurare e quindi il mio compito oltre in campo è quello di legare le due componenti. Ci serviva come il pane, anche perché poi ora penso che il ricorso che abbiamo fatto contro il matino dovrebbero arrivarci anche altri punti, quindi questa vittoria vale 5 punti e quindi noi lavoriamo a tutti i costi. Ora mercoledì ce ne starà un'altra, ci godiamo questa vittoria e poi da domani cominceremo a pensare al Francavilla. Due domande in una, se la Puglia sta diventando ormai la tua seconda casa, vista la militanza, cosa ti suscita sentire quel coro che ti hanno tributato i tifosi a fine partita al momento della standing ovation e poi obiettivo minimo, ora la doppia cifra. Allora l'obiettivo sì è quello, già l'ho dichiarato in un'intervista, spero di arrivarci il prima possibile. Per quanto riguarda la Puglia mi trovo troppo bene qua, già quando ero a Bari comunque sia sono stato a Bitonto e sono stato a Giovinazzo, palese, quindi diciamo ormai sono di zona. Per quanto riguarda i tifosi fa piacere perché vuol dire che comunque li sto coinvolgendo, si divertono allo stadio a vedermi giocare e quello è un riconoscimento che per un giocatore fa sempre piacere. Sì, noi Onni oggi è venuto nello spogliatore, si è operato questa mattina, è uscito, è venuto a vedere la partita, per noi è stato un gesto fantastico, Onni ha fatto le ultime partite per la gente che non lo sa con un menisco rotto e ha dato quello che poteva dare, alla fine ha deciso di operarsi perché comunque sia Onni è un giocatore importante per questa categoria, deve stare al 100%, oggi è venuto allo stadio e ogni gol è stato comunque una dedica a lui, anche io sono andato due volte lì sotto perché era lì in tribuna e ci tenevamo comunque a dedicargli questa vittoria.